buongiorno amigli buongiorno dal wyoming allora prima di iniziare vi faccio una richiesta importante vedo che molti di voi mi scrivete domande o mi sottoponete questioni inerenti al calcio ma me lo fate sui messaggi di instagram ecco io vi chiedo per favore di non farlo su instagram ma di farlo sui commenti di youtube perché io avendo i commenti di youtube aperti sul computer sto un secondo a leggere e rispondere su instagram no mi si riempie la casella di posta di messaggi io instagram lo uso per altre cose lo uso prevalentemente la sera e non riesco a rispondere mi diventa problematico gestire i messaggi su instagram quindi non scrivetemi su instagram le cose inerenti al calcio vi ho sempre chiesto di farlo sui commenti di youtube se avete delle domande da farmi fatelo tranquillamente sotto i commenti dei video anche se avete domande che non riguardano l'argomento del video va bene però non su instagram perché instagram è una cosa che uso più che altro la sera per svago e poi mi si riempie di messaggi mi dispiace non rispondere però mi diventa difficile quindi per favore vi chiedo se potete chiedermi le cose sotto i video di youtube nei commenti allora detto questo mai avrei pensato nella vita da tifoso della fiorentina di dover difendere la juventus allora visto che è un evento eccezionale iscrivetevi e condividete il video perché dico che mi trovo a dover difendere la juve ma semplicemente per il fatto che vedo molti tifosi anche molti addetti ai lavori giornalisti narratori web dire frasi tipo stavolta è mancato qualcosa è mancato qualcosa a livello comunicativo paratici non è riuscito a gestire la questione guardiola sari a livello comunicativo mi chiedo perché mi chiedo perché cioè mettiamoci nella testa di una società che magari guardiola non l'ha mai trattato e non ha mai inteso trattarlo cosa deve fare una società più di dire effettivamente non stiamo trattando guardiola o più di smentire le voci cioè mi sembra di essere in una situazione simile a quella di chi da settimane chiede a guardiola di smentire il fatto che allenerà la juventus e di ribadire il fatto che allenerà il manchester city quando guardiola l'ha già detto tipo 45 volte ma nonostante questo la gente continua a dire che il prossimo allenatore della juventus sarà guardiola cioè qui siamo ad un impazzimento per me delle voci delle ipotesi delle ricostruzioni che viene riflettuto diciamo viene buttato addosso ad una società che mai ha inteso lavorare probabilmente in quella direzione e che se tutto va bene al 9 giugno voglio dire a stagione appena conclusa e per certi versi neanche conclusa perché ci sono gare di nation league gare che ancora afferiscono diciamo alla stagione appena finita ti ha già trovato un allenatore che magari verrà ufficializzato nelle prossime ore che è un allenatore che ha da pochi giorni sollevato una coppa europea importante è una società che dopo l'addio di allegri è comunque andata a sostituirlo con un allenatore che piaccia o non piaccia a me piace molto ma è uno dei massimi esponenti del fare calcio in italia se non attualmente il massimo esponente a livello di bellezza di gioco costruzione di gioco e sapienza tattica non capisco cosa si rimprovera alla società cioè è come se io iniziassi a dire in continuazione l'inter sta comprando messi l'inter è un passo da messi inter forse arriva messi inter è stato visto marotta in albergo con messi inter messi si è comprato un cappello nerazzurro ecco che messi è vicino all'inter inter messi non ha mai detto di voler rimanere al barcellona fino alla fine dei dei suoi giorni inter messi non ha smentito l'ipotesi cioè vado avanti a fare sta sequela sta sequela di voci di cose che ripeto si può fare tranquillamente si può fare tranquillamente basta avere due nozioni di retorica di scrittura giornalistica e poi io imputi alla società inter il fatto che pur avendo smentito poi magari anche nella fattualità e nella realtà questa serie di voci ipotesi che pure possono essere anche fondate e fatte benissimo e non sto dicendo di no però capite che c'è un meccanismo che è autoalimentante non funziona nel rimproverare alla juve il fatto di aver subito questo bailam di voci su guardiola mentre in realtà stava lavorando ad un nuovo allenatore a me pare che i rimproveri che si fanno la juventus per aver gestito male il caso in realtà sia una siano delle delusioni perché si sperava di avere guardiola allenatore ecco che siccome allora guardiola non arriva dopo settimane nelle quali magari si è fatto di tutto per cercare di ricostruire con successo l'arrivo di guardiola alla juve ecco che con l'amaro in bocca si deve trovare qualcosa che non è andato come si sperava ecco che è colpa della comunicazione ecco che è la società che non ha gestito bene il caso ecco che è la juve che non è più quella di uno due anni fa ma perché ecco la delusione juve ma perché delusione juve perché delusione dei tifosi perché allora se siete secondo me più concentrati allora fate un'analisi sui pro e contro di sarri alla juventus uno può fare un articolo può dire una cosa dicendo non mi piace sare la juve perché ta 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 ok poi vedo anche tanto come posso dire critiche che lasciano il tempo che trovano al probabile arrivo di sarri sinceramente io mi aspetterei più che altro una riflessione tecnico tattica sulla nuova scelta dell'allenatore visto che è stata proprio la molla tecnico tattica far fare una scelta così coraggiosa alla juventus poi ne parlerò quando arriverà sarri alla juve di cosa significa sarri alla juve ma visto che se come sembra arriva sarri alla juve la scelta è stata quella di andare verso un allenatore diversissimo dal fare calcio alla juventus siccome è un qualcosa di epocale per la juventus stessa io mi aspetterei molte più analisi tecnico tattiche piuttosto che concentrarsi su queste cose della comunicazione guardiola cioè qui forse non ci stiamo rendendo conto del cambio epocale che significa un sarri alla juve ma che per certi versi avrebbe significato anche un guardiola alla juventus perché come allenatori come modo di intendere il calcio sono profili simili e qui tutti stanno sottovalutando sarri quando in realtà per me sarri alla juve farà meglio di quello che avrebbe potuto fare guardiola però ripeto noto sempre questo tipo di aspettative a rialzo in questo caso noto sta serie di aspettative a rialzo autoprodotte autoindotte fuori controllo spesso che siccome rischiano di venire frustrate ecco che devono essere giustificate con un ritardo della società con delle colpe della società con delle colpe di paratici con delle colpe di nedved ma perché ma perché ma perché colpe di cosa siamo al 9 giugno la juve ha già una buonissima base di squadra dove partire sono il primo a dire che questa juve ha bisogno di rinforzi per essere competitiva per la champions ve l'ho sempre detto ve l'ho detto per allegri e ovviamente lo dirò anche in questo caso la juve ha tremendamente bisogno di rinforzi specie a centrocampo per essere competitiva per vincere la champions non è neanche detto che arrivino però finora secondo me ha operato bene è andato via un allenatore da pochi giorni si va probabilmente a prendere un allenatore che ha appena vinto la seconda coppa europea per importanza cosa bisognava fare ripeto mi pare una situazione un po paradossale nella quale si tenta di scaricare sulla società delle responsabilità che la società non ha mai inteso darsi o non ha mai inteso presentare vi ripeto mi sembra un po come l'esempio che vi ho fatto su messi e l'inter non è se qui qualcuno se qualcuno ha fatto degli errori comunicativi secondo me non è la società della juventus che ha semplicemente fatto il suo il suo lavoro se poi ci sono voci incontrollate che dicono che il prossimo allenatore della juventus sarà guardiola ma non è detto che la società stesse lavorando in quella direzione come fai ad imputare la juve l'aver sbagliato qualcosa dal punto di vista comunicativo anche lì non si può mica chiedere ad una società o un allenatore che stia 24 ore al giorno davanti ai giornali a dire non allenerò la juve non allenerò la juve guardiola non allenerà la juve 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 cioè non possiamo chiedere questo alla gente un po di calma insomma un po di calma cioè finito l'isterismo su guardiola si pretende l'isterismo della società sta dietro a ogni pepituzza pseudo comprensiva di un tifoso che può pensare ecco che se la società non fa questo non lavora comunicativamente in tal modo ha una mancanza perché perché doveva gestire meglio il caso guardiola ma gestirlo come non puoi scaricare sulla società le responsabilità della stampa secondo me fa benissimo la juve invece a fottersene fa benissimo a lavorare sotto traccia fa benissimo a lavorare essa stessa come un underdog diciamo come ho detto se ne frega delle voci se ne frega dell'hype ti porta a casa un allenatore esso stesso underdog è esso stesso diciamo contrario dell'hype magari fa un buon lavoro magari fa meglio di guardiola gli costruiscono una squadra per lui cioè stiamo attenti con le voci di giugno luglio quei giudizi di giugno luglio poi il campionato il campo sono un'altra cosa ditemi cosa ne pensate un caro saluto